Buongiorno e ben Ben ritrovati per il nostro consueto e ultimo appuntamento con lo speciale sulle Olimpiadi di Parigi che si sono concluse poche ore fa in una spettacolare cerimonia di chiusura con il passaggio da Parigi 2024 a Los Angeles 2028. 40 medaglie per la spedizione azzurra, 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi e li riassumiamo così. L'Olimpiade di Parigi si è chiusa con la medaglia più bella per la spedizione azzurra, il primo storicoro delle talbollei rosa di Julio Velasco che ha sconvito nella finale olimpica gli Stati Uniti con un sonoro 3 a 0. Chi si aspettava una gara equilibrata è rimasto deluso. Se le quotazioni erano tutte per una vittoria americana, le azzurre hanno saputo mantenere la necessaria freddezza, lucidità e determinazione nel raggiungere l'obiettivo dell'oro. Da Silla ad Egonu passando per Antropova, Busetti, Oru, quelli stessi ragazze che solo qualche mese fa erano state in maniera poco elegante allenate dall'ex CT Mazzanti hanno ritrovato solidità, fiducia e tranquillità con Velasco. Il tecnico della generazione dei fenomeni si cuce un'ora di dimensioni pazzesche in un lavoro cominciato solo tre mesi fa e che con l'Olimpiade ha posto le basi per un futuro più roseo. Si chiudono 16 giorni di imprese sportive, 40 medaglie, lo stesso numero di Tokyo per l'Italia, ma qui c'è un ragionamento che ho fatto. Molte di queste sono arrivate a sorpresa rispetto a altre su cui si puntava. Delusione enorme da Sette Rosa della Valla Nuoto, il Sette Bello senza i battacci contro l'Ungheria avrebbe meritato il podio. L'Atletica ha vissuto belle medaglie, ma anche il dramma di Tamberi, la scherma, poche luci e molte ombre, ciclismo su strada, pista, nuoto al top con medaglie a sorpresa. Idem per vela, canottaggio e canoa che si regalano triomfi impensabili. Il sacro tribole si è spento tra quattro anni appuntamento a Los Angeles che torna olimpica dopo quelle del 1984. E consentiteci in chiusura anche di parlare di noi perché per 16 giorni vi abbiamo raccontato l'Olimpiade così. Ci bastano pochi secondi per raccontare questi 16 giorni olimpici in cui per davvero abbiamo perso molte notti insonni ed anche alzatacci al mattino belle. World News Web24 si è distinta per una programmazione olimpica snella ed agile, consentendo a noi di raccontarvi al meglio i trionfi azzurri, le delusioni e i quarti posti sperati per un nulla o per sfortuna vera e propria. Dai TG al nostro speciale olimpico abbiamo ricevuto tantissimi complimenti ed elogi che ci permettiamo di condividere con tutti voi, unitamente a chi attraverso i social si è seguito con fiducia e pazienza. La nostra medaglia d'oro l'abbiamo conquistata sul campo alla faccia di giusto per fare o sminuire le persone, orgogliosamente fieri della nostra identità sportiva olimpica e non solo. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a questo punto tra due settimane perché tra due settimane ricomincerà la nostra stagione di news e sport con tante novità, non ve le svegliamo ma per adesso ci prendiamo un po' di vacanza. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.